Avendo 17 anni si può partecipare solo avendo già compiuto i 16 anni, essendo già nell'anno, che porterà i 16 anni. Per lei una rondata flix, salto teso, con due avvitamenti e mezzo, una nota di partenza da 10, veramente ben eseguito. Le penalità che gli attribuirà la giuria sicuramente saranno pochissime. E la Zamolo Cicova, la russa, ha guardato il salto della Rosu e ha capito che forse la Rosu è riuscita a superarlo, ma lo decideranno i giudici se sarà così. Sicuramente balzerà in testa la Rosu, perché ha fatto due esecuzioni veramente belle. Il primo salto, 9,450 per la russa, 9,570, eh sì, è infatti 9,737 per un totale di 9,656 e proprio così stavo confrontando i vari salti della...